. Va ora in onda, Radio Speranza Notizie. A cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu. La radio della Chiesa metropolitana di Pescara Penne in onda sugli 87,6 MHz su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. È stato l'inviato della Santa Sede il Cardinal Egno Antonelli ad aprire la Porta Santa della Basilica di Colle Maggio dando il via ieri sera alle 24 ore di indulgenza plenaria indette da Papa Celestino V nel 1294 che scadranno questa sera alle 18.30 quando sarà celebrata la Santa Messa stazionale con il rito della chiusura della Porta Santa. Grande la partecipazione popolare durante il corteo della bolla nel momento del passaggio fra Piazza Duomo e Corso Federico II. Un gruppo di esponenti del Movimento 5 Stelle ha srotolato uno striscione con la scritta 2009-2014 appunto un invito a come dire migliorare le condizioni della città dell'Aquila e appunto invece si chiuderà questa sera la Porta Santa nella Basilica di Colle Maggio all'Aquila è possibile lucrare l'indulgenza plenaria nelle condizioni stabilite cioè pentiti dopo essersi confessati passando appunto sotto la Porta Santa e partecipando alla celebrazione eucaristica. Verrò all'Aquila nel mese di settembre a fare il punto sui cantieri non solo scuola lo scrive il Premier Matteo Renzi su Twitter rispondendo a un follower cioè a uno di coloro che lo seguono via Twitter e annunciando così la sua prossima venuta nel capoluogo abruzzese colpito dal terremoto dell'aprile 2009. A pochi giorni dall'originaria scadenza dei due concorsi Donna e Artigianato c'è stata una proroga al 15 ottobre. I concorsi sono stati banditi da Commissione regionale Pari Opportunità e Abruzzo Sviluppo. La proroga è dovuta al grande interesse. Il concorso, uno scatto di dignità in tre sezioni, è aperto a uomini e donne residenti in Italia con premi in denaro ai primi classificati. Le foto devono trasmettere messaggi positivi e rappresentare una figura femminile che metta in luce la capacità di mantenere vive le tradizioni ebruzzesi. Due le sezioni del concorso di idee, il futuro del passato, la sapienza delle mani, aperto alle sole donne sempre residenti in Italia e anche in questo caso sono previsti premi in denaro. Il sindaco, la giunta comunale e i consiglieri comunali di Monte Silvano devolveranno come gesto simbolico il gettone di presenza della prossima assise civica alla ricerca scientifica sulla SLA e l'adesione all'Ice Bucket Challenge. Intanto l'associazione Carrozzine Determinate ha invitato politici e cittadini alla secchiata d'acqua gelata collettiva domani alle 10.30 alla spiaggia pubblica accessibile davanti a Via Dante. Per partecipare occorrerà esibire la ricevuta di versamento per la causa. Esistono altre malattie terribili orarie che non ricevono fondi, ricorda però l'associazione. È disponibile presso l'ufficio relazioni con il pubblico del comune di Pescara. In Piazza Italia, a Pescara, la documentazione necessaria per chiedere i contributi che serviranno a rendere più facile l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014. Sono misure di cui possono beneficiare gli studenti, anche disabili. L'importo massimo dei benefici stabilito dalla Regione è tra i requisiti necessari l'ISEE, cioè il reddito familiare, pari a 10.632,94 euro al massimo. Siamo alla cronaca. Il cadavere rinvenuto martedì scorso sotto il viadotto dell'A14 è di Eleonora Gizzi, la 34enne educatrice di Vasto che si era allontanata da casa il 28 marzo scorso. La conferma arriva dalla comparazione del DNA tra la saliva dei suoi genitori e il tessuto prelevato dal corpo. Gli esami nell'ospedale clinicizzato di Chieti hanno fugato ogni dubbio. A dare la notizia al papà Italo e alla mamma Grazia è stato il vicequestore Cesare Gianmaichella, dirigente del locale commissariato. Un cucciolo di orso trovato morto fuori della zona di protezione esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise a Marzara del comune di Sette Frati nel versante laziale. Il ritrovamento risale a ieri sera. Il piccolo orso di circa 6-7 mesi in buone condizioni di nutrizione è stato trovato sulla sede stradale e da un primo esame del veterinario non presenta lesioni o tracce di avvelenamento apparenti. Si ritiene sia morto poche ore prima del ritrovamento. L'assessore all'edilizia scolastica del comune di Montesilvano, Maria Rosaria Parlione, e il dirigente ai lavori pubblici Gianfranco Niccolò hanno eseguito stamattina un sopralluogo presso i due asili nido comunali di Montesilvano, lo scoiattolo in via Chiarini e i fratelli dell'Icastelli in via Foscolo. Abbiamo perlustrato le aree esterne degli asili nido, ha affermato l'assessore Parlione, individuando una serie di interventi necessari per una maggiore sicurezza e l'accoglienza di piccoli alunni. Il nostro intento è quello di eseguire alcuni lavori per installare una nuova pavimentazione su entrambe le aree esterne, previsti anche interventi sulla pineta retrostante in via Chiarini. Sarà la solidarietà la grande protagonista del concerto che si terrà domani sera, a partire dalle 21.30 al Teatro del Mare di Montesilvano. Il bicchierino, la tribute band di Rino Gaetano, si esibirà in un concerto di beneficenza. I fondi raccolti durante la serata verranno devoluti in favore del Centro di Aiuto alla Vita di Pescara e della nuova casa di accoglienza che è operativa a Pescara e che a breve si trasferirà effettivamente in via Valle Furci. Ne parleremo durante la nostra rubrica Servizi ed interviste, non da oggi alle 18.13 e domani alle 7.35. E si prepara una serata speciale domani, una serata di musica d'autore, talenti locali e musica di altissima qualità con la presenza di Roberto Vecchioni per un evento unico in Abruzzo collegato al premio Tenco a Pescara. Si tratta del Tenco Ascolta, presentato oggi in sala giunta alla presenza dell'assessore al turismo e ai grandi eventi Giacomo Cuzzi di Paolo Talanca del Tenco Ascolta. Hanno partecipato anche i presidenti della Commissione Cultura e della Commissione Commercio Emilio Longhi e Piero Giampietro. E con questo siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo sereno poco nuvoloso con temperature da 22 a 27 gradi, eventi deboli. Domani si prevede cielo sereno con sole caldo nel pomeriggio, temperature da 22 a 31 gradi, eventi deboli al mattino nelle ore centrali, moderati nel pomeriggio e di nuovo deboli in serata. Il mare è previsto poco mosso sia stasera che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it ma presente anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Grazie per averci seguito e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie. A cura della redazione giornalistica.